Belli rega, bentornati e bentornato anche a me ovviamente Niente, metto questo video adesso perché mi sembrava Mi sembrava meglio mettere prima una parte della guida L'ho messa ieri, se non l'avete vista correte a vederla E oggi invece fare questa stilza di video perché stamattina non ho nessuno in casa Sono libero quindi farò questo e poi farò boom 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 con la guida Così mi faccio subito perdonare per questa grande assenza Ma come ho già spiegato, no ma siete stati comprensivissimi Io vi amo tutti, c'è poco da fare Che dire? Ah sì, intanto grande notizia, ho superato tutti e due gli esami Il concerto è andato benissimo quindi una cosa fantastica e sono contentissimo Finalmente adesso sono un uomo libero nel senso che posso semplicemente suonare E non devo fare esami complementari come queste due materie che ho appena fatto L'esame che ho fatto ieri è stato veramente devastante Per sapere che cos'è bisogna per forza farlo perché è inutile anche spiegarlo Sappiate solo che sono 500 pagine da studiare più 9 capitoli di acustica Loro ti estraggono 3 capitoli e tu glieli devi dire Sul 500 pagine devi sapere tutto perché 3 capitoli può essere qualunque cosa E poi che dire Niente, adesso riprenderò a GoGo con le guide Vi piace il mio sfondo smile perché sono happy e allora ho messo lo sfondo smile Bellissimo Allora, a questo punto io vi devo fare i ringraziamenti più... Un nuovo commento, aspettate, vediamo chi è Ah ma l'ho già letto, vabbè è il bug del commento Ok Niente, dicevo, vi devo fare i miei più grandissimi complimentorsi Perché siete arrivati a 400 nonostante io non abbia caricato video Cioè siete i fan, siete gli iscritti più belli che una persona possa immaginare Ma meglio così perché rimaniamo solo noi, solo i migliori E andiamo così Quindi ora dobbiamo fare qualche modifica nel canale Impostazioni canale Eh, 400, non vedevo l'ora di metterli 400 Modifica completata Fermati E poi, anche qui Mi sembra, aspettate Perché me l'avete detto quando Quando li ho raggiunti Aspettate, mi sembra che me l'abbia detto lui No, ho sbagliato No Ah sì, è vero Quindi il 12 Direi di sì Perché se qua me ne mancavano tre Sì, direi il 12 o l'11 No, perché Mi sembra Non mi ricordo Non mi ricordo Vabbè, mettiamo l'11 che fa più figo Allora, ecco Quindi 11 Oddio, il giorno dell'attentato alle torri gemelle No, mettiamo il 12 Anzi, no, mettiamo l'11 Per non dimenticare, signori Eh, 0, 9 12 Perfetto Guardatemi qui Sì, ci ho messo Ci ho messo un po' di più dell'altra volta Ma sapete, non caricando video Diventa anche difficile la situazione Fermati No, 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 no Ok Dunque, adesso che dire Niente, vi ringrazio ancora tantissimo Spero continuate a guardare le mie guide A mettere mi piace Ho visto con mio grande rammarico Che c'è un dislike Chi l'ha messo? Mi può dire perché ha messo Non mi piace Che se no io piango No, sto scherzando Si vede che a qualcuno la parte non è piaciuta Vabbè, piacerà la prossima, no? A meno che Cioè, spero di non aver beccato un hater Se ho beccato un hater mi ammazzo Vediamo qua No Perfetto Quindi non è un hater Si vede che a qualcuno la parte non è piaciuta Ci può stare Cercherò di farle diversamente Ora no, non è vero Quello lì è come faccio io le parti Quindi se non ti è piaciuta Puoi fare meno di guardare E... Niente Che dire A questo punto io mi metto subito all'opera Con il mio smile che mi tiene compagnia Ho una maglia anche con lo smile Però non è così È tutta arancione E... Agli occhi simili Però la bocca è chiusa Tipo E c'è solo lo smile Non ci sono queste strisce Vabbè, comunque Sto, sto, sto Sto parlando a vanvera raffica Sono troppo contento Sono al settimo cielo Quindi... Niente Io vi do Il ciao ciao E... No, non è vero Non vi saluto con ciao ciao Vi saluto con belli rega No, non vi saluto con belli rega No, non vi saluto con belli rega